Tutto ciò che aiuta davvero il cittadino a mettere davvero in gioco vecchi nuovi, piuttosto che domestici, è un fattore di formazione importante per le nuove generazioni. Se magari noi anziani facciamo spesso, i giovani fanno più spesso di noi, questo è un segnale educativo su cui davvero ci tengo molto e ringrazio l'amministrazione e chi si è adoperato per rimetterlo in domanda. Grazie. Ultimo, ma non ultimo, Laura è presente insieme a Lorenzo, perché bene o male ci ha seguito dall'inizio un po' tutti i lavori, ha fatto tramite loro con l'amministrazione, con la gestione dell'amministrazione e quindi ringrazio anche a tutti. Grazie.